Sono stato arrestato con i miei genitori, ma poi subito diviso da loro. I miei genitori sono stati mandati qui, ad Auschwitz. È stato un trauma, non li ho più rivisti. Una parte della mia famiglia è sopravvissuta. Abbiamo tutti ricordi bruttissimi. E quando penso a quel che ho vissuto sto ancora male oggi, anche se siamo sopravvissuti. Si è passato tanto tempo. Ma non riusciamo a dimenticare.